Musica Musica Puntata di Guarda che stella, quest'oggi concentrata interamente ad Aris, parleremo del motor ad uno e non solo, della sagra e dei bisate, ma andiamo come sempre a trovare anche gli amici del Kiri e Leison e se c'è, e se c'è, anche la Tiziana. Ma cominciamo dal Kiri e Leison. Ecco, mi amor, buongiorno a tutti. Allora, ci siamo? La parola di casa, come sempre, è presente sull'attenti, sono le 12, allora una bellissima giornata, finalmente per il momento Giove Pluvio sta lontano, sta difetto anche la gente ha risposto. Perfetto, sì, siamo stati sfortunati ieri, purtroppo è iniziato un diluvio che non finiva più, oggi il tempo sta tenendo, quindi teniamo le dita incrociate. Sì, che la gente come sempre passa da voi perché è dato un servizio, una qualità e la cortesia. Sì, in più per ogni fine settimana ci siamo organizzati con la birra caduta, abbiamo diverse selezioni, diversi tipi di birra che proponiamo ogni venerdì, sabato e domenica accompagnate dai nostri crostini. Senti, ma la birra caduta è originale o è caduta in un'altra parte? Guarda, è un po' caduta, si è fatta un pochino male, però insomma l'abbiamo rimessa in sesto così ce la degustiamo. Soprattutto nelle botti di legno, no? Nelle botti di legno come la tradizione vuole. Bene, soprattutto il tuo sorriso da quel tuo... Dio, sempre caro, grazie. Senti, invece Fernando cosa dice? Fernando è un attimino impegnato fuori, sta servendo dei clienti, però è soddisfatto anche lui, insomma la gente risponde sempre bene, quindi che dire. L'importante è che quando si fermano è positivo, no? Si fermano, apprezzano, gradiscono e quindi sì, è senz'altro positivo. Presidente, allora, comunque vada, la gente è arrivata, quello che conta è che se Giove Pluvio vi fa i dispetti, la saga funziona e va avanti lo stesso. Sì, purtroppo stamattina abbiamo dovuto rinunciare all'amministrazione degli artisti, quelli del Piaggio Raduno, Piaggio Incontro sono venuti, abbastanza numerosi, quindi siamo riusciti a fare anche questa amministrazione. Intanto, quest'anno la novità del giro nel comune unificato? Abbiamo voluto appunto unificare il giro da Flambruzzo fino a Scella, fino a Rivarotta per far vedere appunto tutto il comune adesso intero. Lo so che sono arrivati in ritardo proprio per questo. Qualcuno si era perso un po' per le strade, anche perché purtroppo abbiamo la strada chiusa, quindi abbiamo dovuto fare una deviazione. Senti, questa prima settimana per quanto ci riguarda a livello televisivo è andata, voi ufficialmente avete ancora stasera, però il prossimo weekend si ricomincia? Sì, iniziamo, ricominciamo appunto sabato prossimo e domenica con la sagra tradizionale, l'ultimo weekend facciamo i tre giorni con il lunedì finale dove ci sarà il Green Volley. Ci si augura insomma che la gente risponda come sempre alla grande. Sì, speriamo appunto che il tempo migliori ancora. Poi va detto la bisate, quella pescata qua? Sì, noi tutto il materiale lo compriamo a chilometro zero, quindi tutto qua in zona. Insomma date una mano un po' a tutti. Cerchiamo di dare a tutti. Ecco, spieghiamo perché c'è gli occhiali. Perché ho una piccola allergia agli occhi, quindi... Poi con tutti questi moschini qua? Sì, così mi tengono lontano dai... Peccato che non si possono fare alla griglia. Si potrebbe trovare qualche ricetta. Non si sa mai. Non si sa mai. Sempre a chilometro zero. Sempre a chilometro zero perché qua ce ne sono. Sono originali. Sono originali. Sagre da bisate a Daris di Rivignano. Continua anche la prossima settimana, ma andrà avanti fino a fine mese. Presidente, grande successo ma soprattutto quest'anno una particolarità. Ci vuole spiegare di che cosa si tratta? Beh, quest'anno siamo orgogliosi di aver vinto anche come primo premio per Sagre Virtuose. Un premio che ci ha dato, che ci hanno dato Lega Ambiente. Ecco, perché ve l'ha dato Lega Ambiente? Perché questa Sagra ha partecipato al concorso appunto Sagre Virtuose e con le azioni che abbiamo fatto abbiamo avuto dei punteggi e quindi abbiamo vinto questo premio. Perché qui si rispetta l'ambiente. Rispettiamo l'ambiente, infatti usiamo piatti in ceramica, tutto materiale biodegradabile, quindi tutti i piatti sono in ceramica. E poi soprattutto, diciamo così, avete quel virtuosismo, mi permetto di usare questo termine, che dà la particolarità a questa Sagra. Nel senso che rimane la tradizione però con un occhio al futuro. Sì, la gente ha apprezzato molto il discorso del piatto in ceramica. Ecco, vorremmo spiegare il piatto in ceramica di che cosa si tratta? Nel senso che non si mangia la ceramica ma si mangia la bisate, no? E allora cos'è questa bisate? È l'anguilla. Che sappiamo, bene. Ma la particolarità dell'anguilla di Aris? Noi la facciamo nel nostro modo, nella nostra tradizione, da molti anni continuiamo a farla così, sia in umilo che alla griglia. Diciamo che in inglese dico tomorrow. Gio Bastianis dice io moro, qui invece non si muore. Anzi, se magna, se beve, basta vedere anche sotto scritto, insomma, ci si diverte, no? Non metterlo indietro. Bene, beato lei, io purtroppo devo tirarmi indietro perché altrimenti qua si si allarga, ma va di moda le larghe intese in Italia. Senta una cosa, l'ultima battuta e voglio chiederle questo. Ci sono ancora uno o due weekend a disposizione dei nostri telespettatori per venire ad Aris a visitare questa festa? Ci sono ancora due weekend, sabato e domenica, finiamo con il lunedì che è il 29 di luglio. Soprattutto trovate, si mangia bene, ci si trovate anche delle belle ragazze, va detto, non è che ci siamo solo noi, ma comunque, ecco, c'è un tocco in più per venire, no? Esatto. Per assaggiare la bisate di Aris? E non solo, perché abbiamo altri piatti, la carne, le carni, i calamari, pasta asciutta, tutto quello che si vuole, parcheggio ce ne vuole. Sì, dovremmo essere completo. Acqua, vino? Acqua, vino. Stutticadenti? C'è tutto. Dunque, Aris, ricordate, ancora due weekend, sabato e domenica, poi lunedì 29, il gran finale con lo spettacolo pinotecnico. Complimenti e non resta che dire buon appetito. Grazie. Bene, grazie a loro, no? Massimo Tonizzo, quest'oggi abbiamo visto la manifestazione dedicata alle api e alle vespe. La cosa importante è che non hanno punto, però hanno punto nel segno. Ma diciamo che siamo stati stamattina sorpresi in senso positivo, in quanto è la prima volta che facciamo questa manifestazione. Il senso di questa manifestazione, insieme a diverse altre, non c'è da dimenticare che in questo momento abbiamo circa 25 pittori che si stanno dilettando a dipingere dei bellissimi quadri sulle sponde del fiume Stella. Tutte queste manifestazioni, quindi il Vespa Raduno, il Piaggio Raduno, i pittori e quant'altro, non solo altro che delle piccole azioni che la Proloco di Aris vuole fare per cercare di intercettare il più ampio numero possibile di visitatori in questo posto. Insomma, le immagini parlano da sole, il posto è bellissimo, qui si sta bene. Siamo al fresco di alberi, non possiamo chiamarli centenari, ma comunque alberi di una certa dimensione. C'è il fiume Autocloni, c'è il fiume Stella, come dicevi prima tu con il Presidente, si mangia bene, c'è un buon bicchiere di vino. L'allocchio si presta. L'occhio si accontenta anche con le belle ragazze, voglio dire, perché non venire ad Aris? E poi mi permette, oltre alla bisate c'è anche l'acquario di Aris, un vanto molto importante. Sì, questo è un po' il fiore all'occhiello del nostro paese, l'acquario dell'Intututo della Pesca, che tra l'altro è aperto anche con orari accessibili sia sabato che domenica, quindi l'Intututo della Pesca ha fatto anche questo sforzo per tenerlo aperto durante questi periodi e quindi voglio dire, uno che viene qui a visitare la nostra festa può anche unire insieme al ludico anche un qualcosa di culturale, che può essere appunto la visita dell'acquario, piuttosto che un giro nel parco di Vilotelio e quant'altro. Bene, grazie all'assessore Massimo Torizio, poi comunque questo premio è ancora un ulteriore tassello per dire che qui si fa veramente le cose fatte bene. Ma diciamo che la Proloquo di Aris ha una spada, una spada conficcata su un fianco, che sono io che sono l'assessore all'ambiente del Comune di Rivignano e quindi sono danni che tartasso un po' il nostro amico Sandro su queste iniziative. C'è da dire una cosa, come si fa a non rispettare un ambiente così bello? E quindi il fatto che siamo sagra virtuosa penso che sia la diretta conseguenza del rispetto non solo dell'ambiente ma del lavoro che veramente centinaia di persone negli anni hanno lavorato, hanno sudato veramente sette camicie ciascuno per realizzare questo parco, per realizzare questo ambiente. Quindi oggi noi, tra virgolette, raccogliamo il frutto di altre persone, anche magari qualcuno dei nostri concittadini che è morto. Questo è, se vogliamo, anche un senso di rispetto nel chi ha voluto investire in questo posto, in questo ambiente e noi non facciamo altro che far capire alla gente che si può fare festa anche essendo virtuosi. Quindi non è vero che fare la quota differenziata o utilizzare materiale biodegradabile o soprattutto, una cosa importantissima che va detta, l'acquisto di quello che noi vendiamo è quasi a chilometro zero. Abbiamo cercato sempre di fare gli acquisti nelle aziende qua vicine. L'economia che noi creiamo attraverso questa festa serve a motore, a volano di economia per tutte le attività che ci circondano. Quindi voglio dire più virtuosi di così. Più virtuosi di così. Grazie all'assessore Tonizzo, grazie anche al Presidente per l'ospitalità. Guarda che Stella va a Ponente. Non resta che dire a tutti voi ringraziarvi per l'ascolto. E come si dice in questi casi, alla prossima! Grazie a tutti!